In questi ultimi giorni si sono verificati numerosi incendi nella zona dell'Etna, con altrettanti interventi da parte delle squadre dei Vigi del Fuoco. In modo particolare a piedi in Monte Etneo, in Contrada San Gerardo, è divampato un incendio che ha bruciato 2000 metri quadri di terreno, con presenza di castagnetti, roverelli e ginestre disseminati di sterpaglie. Il fuoco ha anche danneggiato parte di una recinzione privata e residenti, notando le fiamme, hanno subito chiamato gli operatori del 118 che sono intervenuti intempestivamente, riuscendo a spegnere l'incendio e limitando al massimo i danni.